Sono i legittimi pastori della Chiesa. I legittimi pastori della Chiesa sono il Papa, o Sommo Pontefice, e i Vescovi uniti con lui. Gesù Cristo paragonò la sua Chiesa a un ovile, nel quale vi sono molte pecore, i fedeli, sotto la sorveglianza di un certo numero di pastori, i Vescovi, tutti dipendenti dal pastore capo, il Sommo Pontefice. Primo, Gesù Cristo fidò il governo della Chiesa a San Pietro come a suo vicario e capo dei pastori e dei fedeli, e agli apostoli e alle dipendenze in San Pietro e in collaborazione con lui. Gesù Cristo prima promisse a San Pietro il primato magistrale su tutta la Chiesa. Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. In seguito mantiene la promessa, conferendo il primato «Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle», intendendo per agnelli fedeli e per pecore gli apostoli e i loro successori. A tutti gli apostoli poi diede il potere di insegnare, governare e santificare. «Como il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate dunque in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo a ogni creatura. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me». Secondo, alla morte di San Pietro e degli Apostoli il governo della Chiesa doveva passare ai loro successori. Gesù promise che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro la Chiesa, che durerà finché vi saranno uomini da salvare, perché tutti dovranno entrare in essa per conseguire la vita eterna. Era quindi indispensabile che, alla morte di San Pietro e degli altri Apostoli, il primato dell'insegnamento, del governo e della carità passasse ad altri e durasse per sempre, fino alla fine del mondo, per poter salvare tutti gli uomini. Terzo, il primato magisteriale della Chiesa, di fatto e per volontà di Cristo, alla morte di San Pietro e degli altri Apostoli passò al Pontefice e ai Vescovi, uniti e dipendenti da lui, i quali perciò sono illegittimi i pastori della Chiesa. Da testimonianze sicure e antichissime, risulta che San Pietro fu Vescovo di Roma, dove morì e fu sepolto, e che a lui successe nel primato universale della Chiesa, il Papa San Lino, al quale successero poi San Cleto, San Clemente, e giù giù ininterrottamente fino all'ultimo Pontefice Vicario di Cristo e successori di San Pietro, Paolo VI. Perciò i Pontefice Romani sono illegittimi i pastori di tutta la Chiesa e i successori di San Pietro nel primato universale. Agli altri Apostoli successero i Vescovi delle singole Chiese, fondate da esse. Sappiamo, ad esempio, che San Paolo affidò la Chiesa di Colossi ad Epafra, quella di Efeso a San Timotio, quella di Creta a San Tito. Al Collegio degli Apostoli è successo il Collegio dei Vescovi, in unione e dipendenza dal Vescovo di Roma. In nessuna Chiesa all'infuori di quella di Roma è continuata ininterrotta la successione del primato di San Pietro. In nessuna Chiesa all'infuori di San Pietro. Grazie a tutti.